Pappo saluta Allora è partita alla finale della buonissima eliminazione Signor Masco Ed è subito il dati della città di Triano Gargallo che va a occupare le prime posizioni in testa al gruppo ma ora viene del centro di ritmo e la polisportiva di Bellusco piazza due atleti al comando delle operazioni Dopo il gruppo che si presenta sul traguardo a passaggio del numero 36 Don Bosco in testa al gruppo a dettare l'andatore Ora quattro atleti della città di Triolo Gargallo si sono portati in testa al gruppo A passaggio contagiri a meno 35 Ma l'unico che fa la guardia che a zero è l'unico Cosa ci sta a fare? Ancora il grusto in filentiana con patto Allungato Ma con tutti gli atleti che ne fanno parte Al passaggio di meno 34 Intanto sento qualche socia che arriva Con 277 Prosto riceve ammunizione A passaggio solo della campana ed entriamo nell'eliminazione Quindi entriamo nel vivo della gara Dove ad ogni giro Questo forto con situazione perderà un elemento E alla fine resteranno solo tre all'ultimo giro A dissidarsi il titolo italiano Per la categoria senior maschi Nella 15 mila rete eliminazione In atto siamo ora con la prima eliminazione Ecco il grutto che si presenta Si allarga La sede stradale E allora viene eliminato il numero 5 Per le scorrettezze Miero Fermarsi Numero 5 Numero 5 Fermarsi Miero Fermarsi Ecco il grutto che si ripresenta Eliminazione 5 8 6 Pittofrati Fermarsi 5 8 6 Fermarsi 5 6 5 6 Ed ancora il grutto che si ripresenta sul traguardo al passaggio dei meno 30 Eliminazione in corso 9 9 5 5 3 Grandesso Fermarsi 9 5 3 Grandesso Si è rialzato l'atleta dell'azzurro a battinaggio e corsa In testa abbiamo gli atleti dell'Apriolo che vanno a occupare le prime posizioni 2 6 8 Fermarsi Falasti Fermarsi Ancora gli atleti 3 Il priello in testa al grutto al passaggio Contagini A meno 28 Ora il body della Rolling Bosica A centro grutto che cerca di portare su un treno 5 9 7 Libra Nessu Fermarsi 5 9 7 Libra Nessu Fermarsi 5 9 7 Fermarsi Libra Nessu 1 1 4 9 7 0 Amminiti 6 6 2 6 6 6 2 6 6 2 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 7 9 9 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 9 10 10 10 10 10 10 12 10 9 10 10 10 11 11 11 12 13 14 15 15 15 eliminazione Bosco ha dato un partire al gruppo 4-2-9 per Massi si tratta di Pedrinelli intanto ancora sotto l'azione di Bosco il gruppo si ripresenta sul rettilineo di arrivo la natura ora si è fatta sicuramente più alta siamo all'eliminazione numero 23 numero 395 ora in testa il gruppo il body della polisportiva di Bellusco il gruppo ora si è allungato più in fila indiana ci sono degli atleti che hanno perso qualche metro perché andranno a stare ed è il numero 424 che si rialza si tratta di Pedrinelli con ora i 4 atleti della città di Piolo Gargallo in testa il gruppo la rosa Bramante Fiorito Mallorca si formano treni della polisportiva di Bellusco e della città di Piolo Gargallo numero 52 numero 52 Baglietta fermarsi numero 52 Baglietta fermarsi ecco che si rialza l'atleta della biletta artistica padronese mentre il gruppo capitanato dagli atleti della polisportiva di Bellusco si presenta all'eliminazione di meno 20 973 Bosco fermarsi per scorrettezza 973 Bosco fermarsi per scorrettezza 973 Bosco fermarsi 970 ammunizione seconda ammunizione percorso per sfida no vabbè no ha visto il gancho ha fatto non l'ha visto? 6-5-2 fermarsi 6-5-2 Taricco fermarsi a passaggio eliminazione numero 18 9-7-4-3 9-7-4 detorna detorna 6-0-5-2 fermarsi per squalifica marisola marisola fermarsi per squalifica di taricco 10-0-5-2 8-0-5-2 come fare la persona di tarina? di tarina vento a vedere la verza di tarina che dice di capitolo Non è più un'eliminazione. E' molto paura. Non è più un'eliminazione. 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 in cinque. I tre atleti di Triolo. E c'è ora un attacco. Allunga. Lancia una volata lunghissima. Siamo almeno due. Eliminazione in corso. 6-5-4. Maioca. E' lui che deve rialzarsi. E' allora bravante. La rosa. Francolini. Ed è ora l'attacco della rolling musica. Parti in sicuro che lancia una volata. con la rosa. Qulegio. Quaranta tre. Clementoni. E' solo rimasto in tre. Bramante. La rosa. E' Francolini. Lanciato. Le scritte. Bramante Davanti alla Rosa E poi Franco Lini E allora Bramante La Rosa, Franco Lini Bravissimi Tutti a città